Mary Jane ASMR Ciao Come stai? Va tutto bene? Spero di sì Nel video di oggi ti coccolerò te coccolerò lentamente lentamente con con il bravo con camera con i tuoi pennelli preferenti che ti sono piaciuti che ti sono piaciuti così da può essere un video misto tra whispering e soft spoken visto che non faccio mai che è comunque rilassante a suo modo molti sostengono che il brush sia rilassante e vederlo anche sul anche sul mio viso e allora volevo parlo anche su di me sla rilassante rotanda osservato la un po' su di me un po' su di te un po' su di me un po' su di me un po' su di me cosa provi con le calutze del brusch carmelo immagino per desia rilassante immagino per desia rilassantissima le carezze un po' su di me 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 Buongiorno a tutti 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 Io credo proprio Credo proprio Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Senti già un po' La palpebra calare Senti un po' di sonnino arrivare Sì, immagino di sì è impossibile è impossibile è impossibile è impossibile devastante è impossibile ora ora mi aggarezzo anche io il viso per rilassare per rilassarvi insieme a te per rilassarci un po' di sonnino insieme insieme per rilassare per rilassare per rilassare so che stai so che stai chiudendo per rilassare per rilassare per rilassare con le nostre con i pennelli double chic con i pennelli double chic credo che per un attimo forse si aspetta la lampada di sole credo che si sia pre-acceso si stava addormentando pure doppio 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 double Spero il sonno sia giunto a te così come mi ero prefissata Buonanotte e al prossimo video